amiche amici appassionati di moto e di moto mondiale è martedì e come ogni martedì dopo il gran premio c'è ciapa la moto gp da ciapa la moto via gardone 22 a milano allora oggi il mio ospite è ruben chaus dovrebbe arrivare siamo un pochino in ritardo però mi ha scritto che arriva quindi ho fiducia parliamo naturalmente del gran premio di spagna il gran premio di spagna che ci ha dato un sacco di spunti la vittoria di bagnaglia la competitività della ktm binder che ha fatto quel sorpasso tutto di traverso roba d'altri tempi assolutamente meraviglioso le decisioni degli steward panels che fanno sempre discutere fanno sempre arrabbiare tutti insomma ci sono state un sacco di cose interessanti e speriamo di parlarne con ruben mi ha assicurato che arrivava e quindi abbiamo fiducia ricordo anche che stasera per chi volesse per naturalmente per chi abita milano eh se vuole venire qui da ciapa la moto io e giamba soprattutto giamba offrono offriamo gli spaghetti dico bene giamba ciao a tutti arrabbiata o agli olio eccoci quindi allora quindi eh stasera dopo la diretta eh spaghettata per tutti allora saluto tutti quelli che si sono collegati cioè René come sempre eh un mio fedelissimo ma anche Simone anche Debolla eh insomma Sante tutti quanti allora ripeto mi sto un po' rappiccando sugli specchi perché sto aspettando il mio ospite ma sono ottimista mi ha assicurato eh mi ha assicurato che sarebbe arrivato intanto rispondo a qualche domanda già che che siamo qui eh allora Stefano dice arrabbiata gli spaghetti però vediamo eh il sorpasso all'esterno di Bagnaglia al primo giro ne vogliamo parlare ma secondo me di sorpassi ne abbiamo visti tantissimi belli in questo fine settimana Bagnaglia ne ha fatto uno alla 12 non mi ricordo se era il primo giro che era qualcosa di strepitoso ma anche il sorpasso di Binder per me che ha fatto nella sprint tra la 6 e la 7 sul compagno di squadra Miller anche quello che Bagnaglia ha fatto su Binder insomma ce ne sono stati tantissimi comunque Paolo devo dire che in questa MotoGP che sembra così difficile difficile superare in in Spagna abbiamo visto tanti tanti eh sorpassi allora eh un'altra cosa eh allora vediamo che tanto c'è una domanda di Sante eh dici cosa pensi della dichiarazione di Quartararo che vorrebbe avere una moto come la KTM da guidare in quel modo allora non l'ha detta proprio così ero lì l'ha detta ieri ha detto intanto lui ha detto una cosa che a me ha colpito molto ha detto io non pensavo che una MotoGP si potesse guidare in quella maniera lì che secondo me è molto significativo è assolutamente significativo ecco lui ha detto questa cosa e poi lui ha aggiunto poi siccome si faceva il discorso naturalmente su eh il motore della Yamaha la velocità il controllo eccetera lui spiegava anche come la Yamaha sia costretta comunque a mettere delle ali delle appendici aerodinamiche chiamate come volete piccole perché altrimenti perderebbero troppo in velocità invece lui sottolineava come sia la KTM sia la Ducati possono avere delle grandi appendici eh aerodinamiche proprio perché hanno un motore potente e quindi eh e quindi possono assolutamente sfruttare quella caratteristica intanto dovrebbe essere arrivato Ruben che però non vedo eccolo buongiorno Ruben mi vedi mi senti buongiorno buonasera buon pomeriggio ma tutto ma guarda ma che meraviglia ma dove sei a casa mia è casa tua è giusto la montagna abito in campagna da dio con delle viste spaziose posso sorvegliere quattro tipi ottimo tgp che stanno qua perché da una parte c'è Joan Mir qua a fianco da un'altra parte c'è Miller Quartararo Aleix Paul ehm una bella marea Jorge Martin un po' ma tu ogni tanto vai a girare con loro in moto Ruben? adesso meno un po' perché comunque comunque ho voglia la mia tranquillità anche in estate sì c'è il circuito a parte della casa su Andorra che avete visto in infinità di occasioni quando c'era il covid che l'unico posto opportunità di poter girare era qua su e anche perché oggi per esempio arrivano tutti i giapponesi dall'HRC e Yamaha che rimangono qua a Andorra perché dopo covid con il visto turistico allungavano perché Andorra è fuori Europa allora allungavano la loro sosta in Europa tra una gara e l'altra e oggi mi ha appena scritto cinque bene siamo siamo in un bel paradiso insomma della moto bello bello senti intanto Paolo ti dice Ruben il numero uno ci ha fatto sognare con la sua guida allora vediamo se riesci a vederla la foto tu che che sì sì la foto Qatar sì l'ho vista sì che raccontaci un po' che gara è questa questa gara 2004 quando eravamo team d'antenne che era un team privato MotoGP con molte difficoltà economiche che provavano di fare il massimo però a quel punto lì uno come me che voleva sempre vincere non era sempre abbastanza allora abbiamo sofferto parecchio però abbiamo trovato la nostra opportunità che era il il devuto di una pista perché dopo welcome essere ottavi rompersi la moto eh Mugello essere in prima in prima posizione con l'acqua è umido e finire quarti Asen finire sesti dopo essere vincito e cioè battagliando per il podio Barcellona è lo stesso eh ci è arrivato finalmente l'opportunità e abbiamo fatto il podio a a Qatar è vero che era un'altra epoca eh quella situazione lì con 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 i social di oggi sicuramente avrete avrebbe andata a a miglior risultato non tutto però bene sono contento soddisfatto di quello che abbiamo fatto Allora intanto si è collegato Roberto Brivio che credo che tu conosca bene e dice Ruben fai bere cinque No se lo faccio bere se lo faccio bere non lo serve più nessuno Grande Roberto Brivio allora intanto ricordiamo che Ruben Chaus ha fatto appunto un podio in MotoGP Hai vinto due gare in Supersport e undici gare in Superbike qual è il ricordo più bello che hai? No il ricordo è aver avuto una carriera agonistica come questa capito interessante ho conosciuto tanta gente che che ancora al giorno di oggi è amica è famiglia ed è quello che ti porti indietro E' vero che i risultati sono importanti i trofei lo sono però le vivenze quello che tu hai vissuto come persona è la levità più bella che hai Cioè io sono nato a Geres che ci siamo visti entro box che entro cioè non mi non mi mi trovo solo la gente che ha lavorato con me e ancora è lì a lavorare con delle situazioni molto interessanti E mi fa solo che piacere capito arrivare dentro e tutti avevano dei ben ricordi con me e io con loro questo non non si paga con soldi non si paga con soldi perciò La carriera agonistica in generale perché ci sono dei giorni di movimenti buoni brutti incidenti c'è di tutto Dei giorni che hai la sfortuna di avere degli anni con della crisi e con delle moto meno competitive come sta succedendo oggi alla Honda E ti tocca essere nel fianco scuro diciamo o meno competitivo e soffri di più e delle volte ti tocca essere nel fianco come oggi chi è su una Ducati che sta godendo bene La carriera agonistica è sempre un alto basso e bisogna essere contento di quello che ti arriva Ecco Ruben, Gran Premio di Spagna, cosa significa per uno spagnolo con la realezza della frontiera? È qualcosa di magico? No, è sempre magico perché corri e corri a casa, per me è diverso perché io sono sempre vissuto in Italia I primi anni della mia carriera agonistica è sempre corso con team e sponsor italiani Allora per me correre in casa era correre a Misano, correre a Mugello, correre a Munza Per me correre in Spagna non è che... perché io non ho fatto il cambiamento spagnolo Un anno solo in Super Sport, dopodiché sono partito fuori Europa a correre Non mi sono fatto tutta la mia carriera agonistica in Spagna di fare Moto3, Moto2, MotoGP o queste cose qua Però sì che è vero che per gli spagnoli che fanno il CEP e poi fanno l'Europeo e poi fanno il Mondiale Sì che è vero che Geres è una pista dove fanno i test invernali, fanno tanti di quei giri Che quando arrivano, diciamo a caso no, non a caso, diciamo come esempio Pedrosa l'altro giorno, no? Dopo non so quanti anni fuori mercato come wildcard e dopo tutto un weekend, tutti i giri che hanno fatto oggi con i test ieri Non hanno battuto di due decimi il suo giro il venerdì, capito? Ti rendi conto di quanto ha girato in quella pista lì, quanto l'hama e quanto bene va ancora, no? Ecco ma Ruben, cosa significa questo? Questa prestazione di Dani? Che lui, vabbè, lui è un fuori classe, è un campionissimo, lo sappiamo Ma qualcuno dice, ah allora gli altri piloti sono un po' scarsi Non è vero, ma la gente gratuitamente parla, capito? Prima perché è invidiosa, secondo perché sognerebbe e cambierebbe una vita per un weekend di MotoGP La vita intera E la gente a accusare, a parlare, è gratis, cioè con tutto il rispetto al mondo Ognuno dice quello che pensa e io lo accetto, però non sono d'accordo Nel senso che Dani ha sofferto moltissimo, ok? Ha sofferto moltissimo perché tu quando passi di una categoria all'altra ti devi adattare alla categoria di due tempi Più pesante, cambio di regolamento, non c'è control traction Un pilota che pesa poco, allora la moto fa un salto per aria e fa un high side Si è rotto parecchie volte perché ha avuto molti furtini, cioè male Perché si è operato, si è rotto cavi, si è rotto di tutto E poi entra il MotoGP nella quale il tuo peso in quell'epoca lì Ti creava una situazione molto strana E passa un mio collega qua a casa perché vengono qua a camminare Non fanno niente di lavoro Buongiorno, buonasera Lui è il direttore del centro olimpico sportivo Ok, dove stanno tutti gli sportivi andorrani Ciao dall'Italia E mi capita questo, la gente viene qua a fare trial, a fare camminate Cioè tu non sai dove stiamo, è un posto spaziale, capito? Ma voglio venire a vederli E' casa tua questa, è casa tua Odo è pieno di moto di trial, vieni qua, la gente viene a prendere moto di trial, va a girare e poi la poggia qua a casa Abito in montagna, non ho vicini Perciò posso fare quello che voglio E ti dico, il discorso di Pedrosa, ripeto, è un discorso che lui dopo di gareggiare e correre con la pressione che ha corso Perché tu quando corri non ti va bene perché non ti va bene o perché non hai cresciuto con la moto che cambia l'uno all'altro E la direzione della squadra crea un telaio che non ti si adatta a te E la pressione che tu hai perché stai adattandoti al telaio, alla pista e a pensare a vincere il mondiale Vuol dire, non hai sosta, non hai pazienza di nessuno e non hai tranquillità E quando non hai tranquillità fai degli errori e crei degli errori Non puoi dire, ok, questa guarda mi conviene come l'America per Rims, vinco A Geres non va niente e devo fare quindicesimo Come cavolo fai uno che ha vinto il GP scorso a fermarsi mentalmente e dire farò quindicesimo perché è quello che tocca fare qua Perché il pacchetto non va neanche a spingere E questa è la difficoltà quando stai adattando per un mondiale Però quando tu fai una gara sola, una wild car, che hai fatto i test senza pressione, hai sviluppato una moto nuova Che ha delle tecnologie che sono in avanti di quella che hanno i tuoi compagni di squadra Che ti dico, è una pista nella quale tu conosci molto bene E che farai quello che farai, sarà solo positivo Ti lascia andare, ti rilassi e quando un pilota di MotoGP si rilassa va al doppio forte Doppio forte, due volte forte, due, capito? E alla fine è capitato questo E perché aveva poco ritmo e perché sicuramente nella partenza E la paurina di vedere questi giovanotti che girano con la MotoGP come quando giravano in Moto3 Affiancati uno a fianco all'altro E creano il buco che non esiste Lì Pedrosa non ha questa abitudine ormai E è di lì che sicuramente ha perso un po' Se no come ritmo gara lui poteva fare nel top 3, top 4, top 5 Tranquillamente Però quello che ha fatto è già straordinario Si è parlato più di questa gara per lui che negli ultimi dieci anni È vero, è vero Ecco io credo che Ruben abbia spiegato esattamente come funziona con i piloti Quando un pilota si gioca il mondiale, cosa cambia da quando invece non deve dimostrare niente Ecco io credo che sia stata una spiegazione perfetta di Ruben Senti già che siamo in tema Pedrosa KTM Secondo te lui quanto è contato nella crescita della KTM? Sicuramente è contato perché alla fine è un pilota che ha galleggiato e girato a livello altissimo con la onda Che ha sviluppato la onda e che ha cercato di sviluppare una onda La quale ha sofferto negli ultimi 5-6 anni Che lui lo ha vissuto Con la pressione di sviluppare la moto mentre faceva il mondiale Che questa è la difficoltà più grande del mondo Perché tu stai pensando a correre e vincere E cambia delle cose che in due ore devi sapere scegliere se vanno avanti o non vanno avanti Questa è un'altra difficoltà per un pilota che è inattivo e cerca di vincere il mondiale Ora lui prova la moto Prova le cose Ha tempo illimitato di provare le cose È vero che mi sono reso conto che Al momento che Pedrosa è entrato anche in KTM KTM ha fatto un cambio di mentalità Perché io l'altro giorno che sono andato al box Il capo tecnico di Jack Miller Che era il mio capo tecnico al debut Mio in Superbike con la fila 9-9-9 Che per lui era la prima gara E abbiamo avuto molte difficoltà e discussioni insieme Siamo grandi amici E me l'ha spiegato Io ho visto subito il box KTM ha preso fuori il portafoglio Ha fatto gli assegni Ha bruciato tre pacchetti di assegni E ha preso i migliori tecnici possibili del paddock Li ha pagati bene Li ha dato libertà Li ha chiesto di usare il talento e portarlo fuori Ascoltarlo per bene E si dimostra questo Hanno fatto una moto in cinque mesi Che è un'altra moto È un'altra moto E questo si sente perché non è solo che è andata bene Jack Miller Jack Miller va forte Pedrosa è andato forte Brad Binder è andato forte Vuol dire che i piloti molto diversi che hai messo sulla moto Anche di mentalità diversa Di esperienza diversa Di crescita diversa Perché se ti rendi conto Uno è venuto dalla Moto3 MotoGP Miller nell'epoca Lo stesso per Binder Capito? Ha fatto una crescita molto veloce Per andare in MotoGP Pedrosa che non andava più in MotoGP E tutti i tre sono davanti Vuol dire che il pacchetto KTM Insieme all'arrivo di Pedrosa E questa mentalità di KTM Di cercare di fare questo stato di qualità Si sente in pista Ruben a me ha colpito molto A me come a quasi tutti gli appassionati Quei sorpassi Con la gomma postura di traverso Che faceva Binder Quando ha fatto anche nella sprint Che ha superato Miller Tra la 6 e la 7 Era un po' che non si vedevano così Lo vedevi Lo vedevi Però lo vedevi Lo vedevi in crisi Questo del passato Binder quando ha già vinto Quando ha già vinto Due anni fa La derrapata era aggressiva E sempre quando derrapava così Andava più piano Perché era una derrapata rischiosa Di già essere al limite E aspettare che la moto si fermasse Per poter andare avanti Questa derrapata è nobile Capito È una derrapata Una moto nobile Io non so cosa abbiamo fatto Ma secondo ho sentito La moto ha delle dimensioni diverse Di quello che aveva la prima moto È una moto che Il transfer di pesi È molto più onesto Nel quale ti parla di più Eppure andando di traverso Delle frenate La moto poi gira perfettamente Traziona Spettacolarmente Perché se vedevi L'ingresso della parte dietro Del rettilineo dietro Era un punto dove Vannaia entrava molto più forte Il passo per curva era più forte Però l'accelerazione della KTM A primi metri Allungava E riprendeva la scia Di questa Ducati Vuol dire che Pur entrando e derrapando Poi la moto ha una trazione spettacolare Vuol dire che Il cambio di pesi In questa KTM È stato uno dei Step Grossi Che ha avuto Che permette al pilota Di parlare con la moto Giocare con la moto Divertisi con la moto Ma secondo te La KTM È la più competitiva Della Ducati O no? La moto sicuramente In un certo punto Era più veloce Della Ducati Però la Ducati Ha molta più informazione A alto livello O alta quota Della KTM Cioè Quando tutto va avanti Perché ormai L'ambito GP È una gara corta È veloce È una gara corta Perché hai I litri che hai Per consumare Che ti fanno Cambiare la mapping Perché se no Si consumi Tutta la benzina Poi E non ce n'hai più Per finire la gara Poi il discorso E quando mancava qualcosa La Ducati era più Tiene in conto Che portiamo poche gare Della temperatura Sole, acqua Acqua, sole Vento, freddo Così Stanno lì Stanno lì Capita Ogni anno Piove Nevica quasi Fa sole Non capisci niente Hai poca tempistica Di provare le moto Per bene Solo Che l'arrivo La motivazione Di Jacques Che se ne va Ducati Non contento Perché stava bene E era vincente E era competitivo Se ne va In un primo momento A una KTM Che forse Neanche lui Si aspettava Fosse così competitiva E ora Le ha dato una Rimotivazione Personale Che questo Crea un impegno A Binder Di Dare il 200% E quando un pilota Fianco a te Dà il 200% Eppure te lo dai Al sì Il livello della moto E penso che Binder Abita qua in Dora Che anche lui Si conoscono bene Vanno insieme a fare trial Sono amici Però sono anglosassi Tutti e due Uno è sudafricano L'altro australiano Dentro in pista Non ci sono più amici E sono animali Capito E questo È un benessere Per la KTM In questo senso Perché Su questo Guarda Me l'ha conformato Anche Guidotti Mi ha detto Da quando è arrivato Miller Binder Rende molto di più Sì La pressione Ti sveglia Capito Forse A un latino Lo addormenta Capito La pressione E poi A un non latino Un anglosassi Lo motiva E lo mette sulle stelle Capito È così È così È così È così È così Capitava molto Capitava nelle superbike Ti ricordi Che eravamo Una volta un latino Soffriamo un casino Perché questi qua Con l'acqua Fredo Acqua Su Inghilterra Muro Muro Qui davanti Era uguale Gas pieno La categoria superbike Per molti anni È stata dominata Di anglosassi Capito E poi Abbiamo rotto L'esquema Io stesso Poi Pirovano Poi Statochili Poi Poi Ceca Poi è arrivato Come si stava Arrivare gente Non anglosassa Che non aveva Una cultura di superbike E comunque Ha fatto questa differenza Ed è così Questi anglosassi In testa Sono freddi E fanno Fanno paura In molti momenti Ecco invece Parliamo un attimo Di Bagnaglia Perché lo sai che Ruben In Italia Molti dicono Bagnaglia vince Solo perché Ha la Ducati Che è una cosa Che a me fa diventare matto Voglio sapere Quale è la tua opinione Envidia Capito Envidia Cosa devo dire Cosa ti pensi tu Di Bagnaglia Cosa ti devo dire La gente parla Perché Oggi è lui Il primo vincente Ora bisogna Bisogna parlare Se Bagnaglia Era decimo Non parlava nessuno Di Bagnaglia Ora Purtroppo oggi Campione del mondo Con una Certezza E sotto una pressione Monstruosa Ma è come quando L'altro giorno Cade in America Cade qua Tutta la stampa Tutta la stampa Sopra E si concentra Esce fuori E dice Io vado a concentrarmi A fare una bella vittoria E vincere E non ha vinto le due gare Perché 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 veniva dall'America Con dei Geri E dall'altra gara Sennò Geri Era sua Dal venerdì Capito Perché Comunque Non ricordiamo Che è un ragazzo giovane Che soffre la pressione Come qualsiasi persona Al mondo Capito E chiaramente La gente pensa Che lui È di ghiaccio E che domani Mi alzo Vinco tutte le gare E non succede nulla Il signor Bannaia C'è una pressione Ad osso Importante Perché Ha un esercito Di Ducati Dietro Che lo perseguono Ha un esercito Di KTM Di Aprilia Che lo perseguono E oggi Ha una guerra Perché Ha visto i tempi Di ieri In Cinque decimi C'erano 12 piloti Di nuovo E Bannaia È un pilota Che ha dimostrato Di avere una testa fredda È forte In prove È forte in gara Di essere competitivo Da inizio a fine Di sapere Giocare La tempistica Delle gomme Della messa a punto E lo sta dimostrando È campione in carica Ed è lì competitivo Dal primo giorno Capito Poi la gente Parlerà Non parlerà Dirà Io Vole che Stiamo vedendo In questa epoca E tutti i piloti Della Academy Che in pochi anni Sono dentro In MotoGP Questo è Statisticamente È una bomba Capito Non si erano visti mai Tanti italiani Competitivi In MotoGP Insieme Venendo tutti Dallo stesso posto Vuol dire che Quello che ha fatto Valentino Rossi Ha lasciato Una eredità Emozionale Mentale Pazzesca Pazzesca È molto interessante Ruben Tu hai lavorato Sia con Marini Sia con Bastianini Bastianini È l'unico Che non viene Dall'Academy Di Valentino Non viene Direttamente Non viene Direttamente Da quella Certo Vive dove vive L'Academy Con la stessa mentalità Mangia Dorme Caga Pensa Come quelli Di quella zona lì Capito Alla fine Non è nata L'Academy Però Annusa Annusa Il modo di vivere Dall'Academy È la situazione Che capita In zona Di Cattolica In quella zona lì Di Rimini In quella zona lì Dell'Adriatico No? Ma non solo lui E altri tanti Che abitano In quella zona lì Che comunque Hanno cresciuto Con le mini moto In categorie Che correvano loro E come facevano le cose Come si allenavano Che facevano Ora questo Ti spinge lo stesso Lui non ha un ranch Però si allena lo stesso Per compensare Quello che non può avere Nel ranch Li studia Li vede E i compagni di festa Sono tutti amici Uno con l'altro Vanno alle stesse discoteche Vanno alle stessi ristoranti Questa è una mentalità Se allenano nel stesso circuito Che a Misano Hanno cresciuto tutti lì Non è nato Con l'Academy Però è un cugino Fratello dell'Academy Senza rendersi conto Ecco Ma lì Ad Andola State costruendo qualcosa di simile Ruben? Secondo te? No, no, no Io qua a Andoro Ho cercato di dare una mano A tutti questi sportivi Nel quale Hanno una carriera Agonistica corta Hanno difficoltà Perché comunque Spagna In molta abbondanza Di più L'invidia E gelosia è alta Alta situazione E la gente che Che ha successo È sempre Molto Diciamo Criticata Pressionata E malvive Molte volte Alla fine Uno fa quello che si merita O può E se le va bene Devi essere contento Per quella Personale E in Andoro Abbiamo trovato Uno spazio Un'oasi Nel quale La gente vive qua Tranquilla È vero che Optimizza il discorso fiscale Perché è vero Ma la carriera Agonistica Di un pilota È molto corta E si fa molto male E molte volte Rischia di farsi male E non correre più È del successo In Andoro Abbiamo trovato Una situazione Molto Tranquilla Per questa Oasi Di piloti Sia motociclisti Che ciclisti Ex Calciatori Rally Dakar Si trovano qua insieme Si allenano insieme E hanno creato Tipo una famiglia Nella quale Sono contentissimi Tranquilli Abbiamo un circuito A pass della casa Che nell'epoca Covid è andata Molto bene Perché Perché si hanno Potuto allenare tutti E non smettere di allenarsi E si è creato Questo Asi qua Da quale sono fiero E contento Di avere Fatto un grande lavoro Capito Dopodiché Niente Non ha niente speciale Andorra È un posto sicuro Per crescere Dei bei bambini Avere tranquillità A un'ora e mezza Di Barcellona O due Di macchina Abbiamo un aeroporto vicino Così è privati Adesso già Qualche aereo regolare Che fa a Madrid Cosa possiamo chiedere Non altro Bene 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 Senti invece Giancarlo Ti chiede Ruben Team principal Team manager In MotoGP Lo rivedremo E qualcuno Prima diceva Perché Ruben Non va al posto Di Puigio La onda Criticatissima In Italia Puigio Guarda Non è facile Il lavoro di Puigio È meno ora Capito È meno ora Io sempre dico Che alla fine La gente Deve vedere Il perché Delle cose Perché oggi Critica Sicilissimo Puigio Su quel lavoro Lì Però Bisogna vedere Anche Quanto bene Ha fatto La KTM L'Aprilia E la Ducati Come europei A sviluppare Sotto un regolamento Molto stretto E leggere questo regolamento E sviluppare delle cose Che bisogna svilupparle In molta fretta E Tempistica Veloce L'avassatore Gli alettoni Tutta la situazione Di Tuning Di Spare parts O accessori Che hanno creato Queste fabbriche europee Rispetto ai giapponesi Hanno fatto un salto Di qualità Che il Giappone Per modo di pensare Che Ogni volta che Fanno un pezzo Di una moto Non ne fanno tre O quattro Ne fanno uno Deve passare Il consiglio D'amministrazione Deve approvarlo Deve essere omologato E quando l'assicurazione Dell'azienda Dice che Quello Non Creerà una situazione Che possa essere Un incidente Mortale O Di creazione Future Negativi Per il marchio Delle vendite Di moto Ti approva Sono passati Due anni e mezzo Questo Allora La moto In quella che Corre La Honda Facciamo un paragone E che la sviluppa In un anno Dall'2023 A 2024 È un anno Ma Emozionalmente Sotto Gli uffici La Ducati Come se Avesse fatto Tre anni Di sviluppo In uno solo Hai capito? Può dire che Quando la Honda Fa una moto 2023 La Ducati La stessa moto Sviluppata Si sarebbe come Una Honda Del 2026 E quando la Honda Fa 2024 La Ducati Ora È una 2030 E oggi Oggi Questi europei Sono un altro livello E tu pensi Che Pucci Che va tre volte Al Giappone Può convincere Al Giappone Di cambiare Tutto questo In un giorno? È così A parte che Pucci Come me È onesto Dice le cose chiare Non sempre ti piace Quello che ti dice E poi il giapponese Quando gli parli così Fa contrario Capito? Si chiude casa E si fa l'arachidi E poi Deve trovare un altro Giappone Non è facile Non è facile Per Pucci Non è facile Per la Honda Non è facile Per nessuno Oggi Sta facendo un grande lavoro Le case europee KTM Ducati Sotto l'ombero Di Audi E KTM Mentalità austriaca Come Porsche Hanno dei sponsor grossi Come sono Red Bull O Malboro O altre stazioni E l'Aprilia Una grande famiglia Dietro Che è il gruppo Piaggio E si vede Si vede Ormai si vede questo Si sente Il profumo L'annusare Come vedi I box I meccanici Contenti Motivati E in casa Honda E in casa Yamaha Non sanno cosa più fare Sono d'accordissimo La mentalità In questo momento Fa la differenza Allora Simone dice Ruben Al posto di Spencer Subito E questo è un altro argomento Che volevo Trattare con te Queste decisioni Degli Stuart Pagni L'hanno fatto discutere Qual è la tua opinione? Mi sono discuso Con loro Ottanta volte Perciò Non posso opinare Guarda Voglio molto bene Freddy Spencer Perché una persona È stato un campione Che io non sono stato Cioè lui è stato Più campione di me Parecchio Più campione di me Pertanto è vero Che lui sono molti anni Che non corre in moto Vuol dire che Devi essere vicino A aver smesso di correre in moto O girare ancora A un certo livello alto Di moto Per capire Quello che sta succedendo E allora E quando tu capisci la categoria Perché da poco Che l'hai emolata Sia già come pilota O come team manager O come dentro del sistema Hai la capacità Di creare reazioni O pensare Nel posto dei piloti O naturalmente Per poter Dare una Non so Una penalità O una situazione Il più O meno danneggiante possibile Per chiunque Stia a fianco E si ho visto Che ci sono molte critiche Io non voglio Criticare nessuno Capito Io solo dico Che Penso forse Che I steward Fossi più vicini A Si è dimostrato Adesso con i team manager I team manager Ultimi arrivati Sono gente giovane Come Come All'entrata di calcio Sono gente giovane Che capiscono I piloti di oggi Capito Come guidano Come si allenano Come Come fanno delle cose Che mentalità hanno Il mondo sta cambiando Il mondo tradizionale Il mondo tradizionale Ormai Funziona meno Serve ancora Ma funziona meno Però il mondo social In nuova generazione Sta mangiandosi Il mondo tradizionale Capito E lì siamo Un po' Sicuramente In quel senso lì Molti piloti Di 18 anni Non si ricordano di me Quando corro in moto Immagina a te Si ricordano di Freddy Spencer Perciò E il rispetto Del pilota Verso chi Sta dicendo le cose È importantissimo Perché se il pilota Non ti rispetta Sei perso E questo è importantissimo Che il paddock Rispetti a chi Sta facendo la giuria Perché è molto importante Perché è un pacchetto Alla fine La giuria Necessita Del pacchetto Piloti E i piloti Necessitano Una buona giuria Capito Per il bene Della categoria E forse oggi Sono un pelo Sbilanciati Perché lo leggo Non per lo dico io Perché lo leggo In giro Però Diciamo Non è facile Le decisioni Che hanno preso Sabato e domenica Tu le condividi O no? Non posso opinare Dal dettaglio Capito? Le hanno prese Finito lì Non puoi discutere Sì Penso che Molte volte Si prende decisioni Che non vanno D'accordo Con quello Che è la realtà Diciamo Però Giudicare O giudicare Una sola Situazione Concreta È difficile È difficile Ecco Ruben Poi ti lascio andare Veramente Perché già Ho abusato Della tua gentilezza Volevo un tuo giudizio Su Marquez Perché Marquez Non ha firmato ancora? Non ho capito Scusami Non ha firmato ancora La capa di me? Chi? Marquez? Ah io non lo so Questo dimmelo tu Magari tu lo sai No, non lo so Non lo so Non lo so No, ma tu come lo vedi qui? Lo vedo che alla fine Io sempre cerco di Mettermi nel panni del pilota Capito? Sono stato pilota Ho sofferto in vita Molte cose E Molta gente non mi ha capito In molte situazioni Perché io comunque Ho avuto una carriera Agonistica Molto interessante Però ho avuto anche Non sfortuna Ho avuto delle situazioni Complesse No? Sempre ho cercato di aiutare Le mie compagnie di squadra Alle mie squadre E forse questo mi ha privato Di avere un titolo mondiale Due o tre Però è andata così Sono contento Però mi metto nei panni Dei piloti Se mi metto nel panni Del campionissimo Marc Marquez Che è uno dei migliori talenti Delle ultime generazioni Di piloti Che ha alzato il livello Di tutti i piloti Forzatamente Mentre tutto andava bene Facile E non si faceva del male Anche se la moto Non era perfetta Lui riusciva a dare In più Negli ultimi anni Non sempre gira La palla verso di te E sembrerebbe Che ha girato un po' meno Verso di lui Vuol dire che Ogni caduta Forte Ha creato Un infortunio forte E quando tu Hai una certa età Non vuol dire che Nella 40 Però in una certa età Che tu hai vinto già Cinque mondiali E che non devi dimostrare Niente a nessuno Cali e ti fai male Cali e ti fai male Cali e ti fai male Questo alla testa Li crea comunque Una situazione Perché Perché quando il pilota Si cade L'altro giorno Cade Quarta l'ora Si alza Va a correre la moto Ovezechi Salgono dentro E sono di nuovo Lì davanti Perché la mentalità O la mente Non è capace Di Pensare male Perché Assorbe tutto È come una spugna Sai Ma quando il pilota Sta a casa fermo E vede la tv E ascolta cose E ascolta cose di notte Non dorme E vede tutti A gareggiare E andare forte Lui che non può andare A correre Il braccio Non si mette a posto Il braccio Non si mette a posto Di nuovo Il braccio Non si mette a posto Di nuovo E io ripenso 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 E al canale Sto tranquillo E mi innamoro Forse Capito Perché trovo Una ragazza Che con mio tempo libero Ho più tempo Di innamorarmi E mi innamoro Capito E vede una casa Bellissima Faccio cose Che non facevo Che era uscire con gli amici Fare la barbecue Fare delle cose Che non facevo Perché quando siamo piloti E che siamo con 15-16-17 anni A correre in moto Noi non abbiamo Una gioventù normale Cioè Non abbiamo una gioventù normale Che andare a far festa Normale Andare in vacanze Come tutti Far cose Facciamo delle cose Cotto periodo E non si sfruttano bene O si godono bene Perché hai una personalmente forte Che stai facendo festa Ma stai pensando alla moto Capito E questa Sosta Di molta tempistica Lunga Per Marquez A pensare molte cose Che non erano la moto Sono sicuro Che questo Ha creato La situazione di pensieri No? È come adesso No? Ha caduto in Portogallo Si è fatto del male Non corre in America Dove vince E stravince sempre E non correre a casa Geras Sono due cose Che Marquez Non avrebbe mai fatto È così Marquez Marquez avrebbe corso Anche con un braccio Legato alla schiena Capito? È così È così E lui Si è perso La gara dove Ha vinto Le ultime sette volte Con una mano Con una mano E ha perso Geras Dove è la gara di casa Con Repsol E non c'era E non c'era Neanche il weekend Cioè Sabato di America Non era lì Né per il sport Né per niente Vuol dire Che questo per me Sono segnali Che qualcosa Sta accadendo Non solo cosa Però qualcosa Sta cambiando No? È la maturità Della gente Della persona E voglio pensare Che lui È una È una persona Come te Come io Che si merita Un rispetto E che ha E che ha bisogno Di godere della vita E che ha bisogno Di Fare quello che Si senta E penso Che oggi Per lui Trovare la motivazione Di continuare in onda A quel livello lì Non deve essere facile Anche se deve Tanto onda Come onda lui E la situazione È che lui È un uomo Red Bull La KTM C'ha soldi A volontà C'ha giocattoli Che lui Riva in comodo Motor Flat track Gas gas Che è trial Dakar Ha tutti Ha tutti i giocattoli Che può avere Non deve mettere l'adesivo Che quella È una onda No Tutti l'adesivo A casa La Red Bull È lo sponsor Principale Suo La moto funziona È chiarissimo Motivazione Motivazione Di cambiare moto E di far bene Non so Chiarissimo Allora Ho le ultime due domande Una te la fa Gianni Che ti dice Ti chiede Cosa pensi di Ottola Lui dice A me Sembra un fenomeno Sì Veramente Stanno crescendo Piloti Molto fortemente E Ogni volta Nascono piloti Che Che non Puoi neanche giudicare Perché Perché Sono due anni Che corrono quasi Saltano E gareggiano In due anni Come uno Che portava dieci anni Allora Sono veramente Fenomeni Sorprese È importante Sempre Che Che abbiano La fortuna Di trovare una moto Buona Sempre dove vanno E che non siano occupate Le moto Perché capita anche Che poi Nascono tre piloti forti Poi vai a trovare moto In moto GP Non c'è più posto Esempio Binder Binder Salta in moto GP Nella moto di Ruslan Yamaha Non si adapta Torna indietro Sparito Sparito Nell'orbita Moto GP E questo può accadere L'anno prossimo A un Augusto Arturo Fernandez Le può accadere A un Raul Fernandez Cioè Poi sono capitale Che moti piloti Che hanno un futuro Veramente interessante Il futuro Si bloca Perché non hai trovato La moto giusta Perché non è libera Non tutti Però è un grande pilota E veramente Sia Italia che Spagna Hanno gente Nel forno Molto interessante Ecco Ruben Invece tu non lo sai Ma io sono diventato Ricchissimo Con il mio canale YouTube Proprio ho tantissimi soldi Che non so più dove metterli Allora ho deciso Di fare un team In moto GP Ho deciso Che tu sei il mio team manager Non mi chiamo Tu sei il mio team manager Allora Che moto prendiamo E che piloti prendiamo Per vincere il mondiale Moto devi prendere una moto Nella quale ti assicura Di con un team privato Che quella sarebbe l'occasione Un team privato Con un budget limitato Ti permetta Essere davanti Non vincere Ma davanti Nelle più gare possibili Ok Questa è la prima cosa Di poter fare Ok Un marchio Nel quale Avete una moto competitiva Nelle massime gare possibili Ok A costi più bassi possibili E chiaramente Oggi per oggi La moto Che meno soldi Ti costerebbe Sarebbe una Ducati Ok Piloti Se è un budget limitato Forse mi interessa Se fosse limitato Forse mi interessa andare Oggi per oggi A un altro Marchio Perché posso avere Una terza moto E quando La prima e seconda Non va Mi piazzo In posizioni giuste Ok Che può essere Sia una Aprilia O una KTM Piloti Piloti Ce ne sono tanti Piloti buoni Eh due Prendiamole due Per vincere il mondiale Sì ma cosa Quanti soldi hai Per parlare Ce li ho Ce li ho Sono ricchissimi Non ce li hai Se li avresti Saremmo già Lì Bisogna pensare Con la testa Hai capito Quando uno pensa A quello che farebbe Con i soldi di altri Così Non va da nessuna parte Io sono una persona realista E come quando abbiamo preso Tima Vintia Il Tima Vintia Aveva un budget Fuori luogo Ok Che non arrivava Da nessuna parte Per quello che creava Deleviti Perché se non era Un budget di 10.5 E non arriva A fine anno È come dire Guarda Io mi compro una casa Di 3 milioni di euro Ma solo ne ho 500 Allora Non la finisco Ma non ho fatto Niente il primo piano Perciò Siamo onesti La prima cosa È ristrutturare la squadra Come abbiamo fatto noi Con la Vintia È ristrutturare la squadra E pensare ad avere Piloti buoni Ok A costo basso Ed è quello Che è accaduto Avevamo preso un Zarco Che era interessante Per la Francia Perché la TV francese Poteva aiutare Un pello E perché a Ducati Le interessava Il mercato francese E allora E questa è stata Una motivazione Per rimettere in piede Una struttura Con un motivato francese Che all'inizio Non voleva venire con noi E abbiamo dimostrato In casa Di poter essere Ottimi Per lui Senza pressione Ok E io non direi Che pilota prendo Mi potresti dare Anche l'ultimo Nella griglia E contento sarei Perché sono sicuro Che con una bella moto Motivazione Struttura E mentalità Anche noi Saremmo In i top 5 In i top 6 Sapito Perché oggi Qualsiasi pilota MotoGP Qualsiasi Che io prenderei In mano con me Ti dico Che se avevamo tutto Lo portiamo In i top 10 Allora Ruben Un sacco di gente Mi dice Bellissimo Questa diretta Ruben Deve tornare Quindi Ai te Guarda Che non mi sono andato Sono un po' più tranquillo A casa Inlassato Vengo da lontano Vengo al paddock Va bene Molti mi hanno chiesto Perché non fai MotoGP così Perché alla fine Comunque Essere direttore Di un team O lavorare in un team Ci vogliono 25 gare Fuori casa Viaggiare tantissimo Per uno stipendio Con tutta l'onestà E umiltà Delle volte Se io qua a Andorra Ho dei ristoranti Ho delle stazioni Benzinai E cose Che mi danno Mi generano un po' di soldi E posso compensarli Oggi per oggi C'è una situazione Di tranquillità A casa Che non è detto Che domani Abbia l'opportunità Di tornare a MotoGP Nella quale sia bella E bellissima Dopo una sosta Di un paio di anni Per riflettere Per crescere come persona Perché è quello Che sto facendo Crescere come persona Conoscermi a me stesso Psicologicamente Perché comunque Abbiamo corso una vita Ho gareggiato una vita A fuoco Noi I piloti Io stesso Dai 17 anni Che ero fuori casa Finora O fino a tre anni fa La mia vita è stata 300 Sempre Sempre Ora Se tu senti i passi di linea Adesso a casa mia Sto bene E chiaramente poi Contento di tornare Sempre Lo sapete che a me piace La MotoGP Mi piace alle moto Penso che posso dar tanto Per la MotoGP O per questo mondo Poi Mi piacerò Alcuni Mi piacerò Meno gli altri Capito Però Sono uno che non inganna Ti dice la verità Sempre Penso che quando parlo Non è che Dico Stronzate Nel senso Cerco una Cerco una Una realtà Di la situazione che cade E la mia opinione Capito Umile Che alla fine Piacerà Sarà accettata Di alcuni Alcuni no Ma come il mondo Come dappertutto Ruben Veramente io ti ringrazio Tantissimo Per il tempo Che ci hai dedicato È stata Veramente una chiacchierata Super Super Piacevole Grazie davvero Ruben Ok Dai Salutami a tutti quanti Si trova ancora Verò sicuramente A Mugello Sarò lì a Mugello Facciamo una diretta Dal Padox Se vuoi Sarò sicuramente A Misano Farò Farò alcune gare Le farò Perché ho molti amici E guarda che vengo ad Andorra Prima o poi vengo Quando vuoi Passeggerai qua E vedrai tutti i piloti MotoGP E tutti Ti saluteranno Non come nel Padox Quando sono tesi Che non ti cagano neanche No 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 Ti saluteranno Perché qua Cosa succede qua Sono rilassati Sono tranquilli Capito o no? Nel Padox Sono tutti così Come gli asili Tutti concentrati Dai Va bene Allora qua C'è un sacco di gente Che ti ascolta Vorrei che gli facessi un applauso Facciamo un applauso Grazie Ruben Grazie 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 Grazioni Ciao Ruben Grazie ancora Ciao 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 Allora Diretta Molto interessante Non dovrei dirlo io Però ormai l'ho detto Grandissimo Ruben È un personaggio Che mi piace moltissimo E da andare ad Andorra È uno degli obiettivi Che ho Adesso con Ruben Scherzavo Ma è veramente così Ho in mente di andare a fare Un servizio là Per vedere appunto Dove abitano i piloti Cosa fanno Passare un po' di tempo Assieme a loro Per la gioia Della mia famiglia Quindi sto là Una settimana E dopo forse sto là Perché non torno più a casa Allora Un paio di notizie Raul Fernandez Che soffre di sindrome Compartimentale Io credo che verrà operato Prima Della Francia Secondo me È un'indiscrezione Che ho Ma secondo me Verrà operato Prima della Francia E speriamo che in Francia Possa essere più competitivo Miguel Oliveira Purtroppo ha una piccola Frattura Dell'omero Credo Dell'omero destro Si parlava Ieri Di almeno Quattro settimane Fuori Quindi vuol dire Che perderà Sicuramente Le man Molto probabilmente Il Mugello E poi Vediamo Speriamo che non sia così Però insomma Queste sono Le notizie Che Che giravano Ieri A Erez Nel Paddock Altre cose Non me ne vengono in mente Allora domani Che è mercoledì Finalmente Torno a parlare Di moto da strada Assieme Al mitico Maurizio Gissi Collega di Moto.it Che adesso si gode Giustamente la pensione Allora Dedichiamo la puntata Di domani Alle nude Come le chiamo io Alle naked Come le chiamano Quelli più fighi di me Quindi puntata Per gli appassionati Di moto da strada Giovedì E poi dopo Andiamo troppo avanti Comunque in settimana Ci sarà Il Diavolo e l'Acqua Santa Con Caroletto Pernat E Simone Battistella Naturalmente Io credo che l'argomento Sarà quello degli Stewart Ma non sono sicuro Ma probabilmente Sarà quello E poi Domenica C'è la gara Della Superbike Come l'altra settimana Forse organizzo Una diretta Con Un ex pilota Della Superbike Vediamo Comunque insomma Vi tengo informato Attraverso i canali social Quelli lì che piacciono Tanti a me Attraverso Youtube Eccetera eccetera Piccioni viaggiatori Eccetera Adesso noi Andiamo a mangiare Gli spaghetti Grazie a tutti E' stata Un'altra Diretta In cui mi sono divertito Moltissimo Che è fondamentale Ciao a tutti Grazie Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti